Stimolate dalla manifestazione di Sondalo, molteplici in questi giorni le prese di posizione degli amministratori locali sul tema sanità. Dopo la nota di sindaco di Sondrio Scaramellini e presidente della comunità montana di Sondrio Maffezzini, che rinnovano l'auspicio di un ritorno dell'Alta Valle al confronto istituzionale, unica via percorribile per arrivare ad una sintesi, sulla questione interviene anche Emanuele Nonini, presidente della comunità montana di Morbegno, che invita ad un'assunzione di responsabilità per arrivare ad una decisione unitaria, capace di prevalere sulle contrapposizioni. Dialogare con la regione per garantire un alto livello dei servizi sanitari, sostenibile nei costi e nell'organizzazione, questo l'obiettivo a cui tendere. Dalla Bassavalle dunque l'invito a individuare una linea comune partendo da quando condiviso da quattro mandamenti su cinque, ovvero il documento di riqualificazione della rete ospedaliere e territoriale. Abbassare i toni e recuperare un'unione di intenti al di sopra degli interessi dei singoli mandamenti, afferma Nonini, è la ricetta perché tutti insieme 77 sindaci possiamo riuscire a trovare la miglior soluzione possibile per la sanità provinciale e far valere le nostre istanze in regione dove troveremo ascolto. Intanto anche la Val Chiavenna si fa sentire, Roberto Scaramellini, presidente assemblea mandamentale dei sindaci e curatore del documento dei 71, invita regione e vertici di ASST e ATS a dar seguito a quanto condiviso per il rilancio dell'ospedale della città del Mera, individuato come presidio di base che dia risposte sui pazienti acuti e rafforzi i servizi territoriali. Quanto richiesto dalla popolazione sia attuato in concreto, dichiara il medico, consigliere comunale di Chiavenna. Oltre al mantenimento dei reparti esistenti serve lettura rapida dei tamponi sui pazienti ricoverati, convenzione con ASST Lecco per inizio attività di chirurgia ortopedica a bassa intensità, rafforzamento delle attività diagnostiche ambulatoriali per abbattere le lunghe liste d'attesa Createsi col Covid, creazione della figura di coordinamento delle ostetriche di comunità e delle attività di supporto alle puerpere, supporto ai medici di base nei programmi di dimissioni protette e progetti di telemedicina. Presto, dice Scaramellini, chiederemo un incontro ai vertici di ATS e ASST. Saremo determinati nel chiedere quanto crediamo indispensabile per la nostra gente, a maggior ragione sapendo che ora la proposta è condivisa a livello regionale. Infine anche dalla Val Chiavenna l'invito ai sindaci dell'Alta Valle per un confronto politico costruttivo per elaborare un progetto sanitario di ammodernamento vantaggioso per tutta la provincia senza che nessuno si senta depauperato.